Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale. Si raccomanda comunque prudenza a causa del maltempo che sta interessando gran parte delle tratte stradali della regione. In A12 invece si ricorda che a causa di lavori è chiuso lo svincolo di massa in entrata in direzione Livorno. Sulla statale Unaurelie a causa del maltempo momentaneamente è chiuso lo svincolo di Via Reggio. Sul raccordo Siena-Firenze per interventi di potature in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Colle Valdelsa Sud che è chiuso in entrata in direzione Firenze. Scambio di carreggiata anche sulla statale Trebis Tiberina all'altezza dello svincolo di Sansepolcro Sud che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Roma. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!